Ciao a tutti cari fan del mio viaggio a Torino, oggi ci troviamo nel quartiere Borgo San Paolo, comunemente chiamato San Paolo, siamo in un interno di cui ci sono vari negozi come potete osservare e quell'edificio alto che sto riprendendo è il grattacielo della Lancia e quello che state vedendo adesso di fronte a voi, questo edificio un tempo era una fabbrica della Lancia ma che adesso è stata praticamente trasformata, come potete osservare è tutto bellissimo perché è tutto nuovo ma ci sono anche degli ingranaggi disegnati sul muro proprio per ricordare il passato. Adesso ci incamminiamo verso questa immagine per capire che cosa è, insomma di cosa si tratta in poche parole e stiamo osservando che in realtà è stata trasformata in una casa di riposo, vedete questa cosa non la sapevo però in futuro potrebbe essere utile per altre persone, questa è l'entrata, le case sono veramente belle, tutto pulito, tutto ordinato, con i giardini e quindi se avete dei figli venite da queste parti e magari non lo sapevate potete portare i vostri figli quindi a giocare e potete passare anche voi del tempo, parlare anche con altri genitori e via dicendo. Quindi devo dire che questa è una parte molto elegante, moderna ma elegante nello stesso momento e soprattutto perché è tutto praticamente tutto ristrutturato, tutto nuovo ed è bello vedere una città quando è pulita senza scarabocchi, senza niente, tutto decente perché si vive meglio sicuramente ed è piacevole agli occhi. Ma lì vedo che c'è una cosa particolare, ecco vedete laggiù si vedono che già ci stanno facendo dei lavori, che vedo un vuoto ma non mi avvicino più di tanto, ma lì c'era un toro, in pratica questo simbolo in realtà di Torino, vedete il palazzo che vedete in fondo insomma il grattacielo della lancia, che quanto è alto. Certo, prima ho fatto anche dei video da sotto per farvelo vedere, l'altezza.